Se una struttura per anziani, per disabili, per situazioni nelle quali è prevista la presenza dell'infermiere e questo non c'è, non c'è nei numeri stabiliti, non siamo in grado di fare servizio e quindi dovremo o dire alle famiglie portatevi a casa gli anziani o mandarli in ospedale. Quindi la nostra è una posizione molto netta. Insomma, se gli infermieri delle strutture protette li assume in massa la regione e la coperta è corta, come si fa? L'appello delle case di riposo delle Marche segue la chiamata di 3.000 sanitari avanzata dall'assessore Filippo Saltamartini, che spinge sul rinforzo immediato per ospedali e presidi territoriali in lotta contro la seconda ondata da Covid-19. Autunno inverno rischiano di essere molto troppo lunghi per le RSA, con gli ospiti decimati dal virus nella scorsa primavera e ora alle prese con una diffusione meno capillare ma più aggressiva. Il 90% dei contagi a Fabriano, oltre il 50% a Macerata. I prossimi mesi però sono lunghi anche per l'isolamento degli anziani più fragili, con lo stop alle visite e una disperata ricerca di figure di sostegno, misure anti-Covid permettendo. Serve proprio la compagnia, stare vicino all'anziano, farlo parlare, eccetera. E questo ovvio che lo sanno fare bene i familiari per ovvi motivi, ma non li possiamo far entrare. Le animazioni fanno, ma le persone, vi dico, non si trovano, ecco, persone che fanno questo tipo di lavoro. L'appello delle case di riposo è duplice, ma un unico destinatario, la Regione, sul personale sanitario e sulle somme pregresse da incassare, tra i 7 e gli 8 milioni di euro che fanno tremare i bilanci delle strutture. Le strutture stanno soffrendo, anche economicamente.